è uscito qualche video carino che se potremo spacca oh è uscito un video di caressa molto carino, pure col diegone oh eccoci qua, eccoci qua ooooh dieghe fammi vedere come spigno ciao a tutti ci vediamo qua con fabio caressa oggi per un nuovo video quiz sul calcio, via partiamo col primo è più short però, è più shorter diego, al primo video si vede che c'aveva un po' de timore invece mo' più shorto, bravo vabbè vinicius, capo questo è abbastanza facile ah vinicius junior vinicius junior facile bro inter, frosinone, genoa, inter empoli inter, frosinone, genoa, inter empoli, sassuolo due anni all'inter e poi è andato al frosinone che cazzo piava sassuolo è un attaccante faccio un immo no, lo so no, dai io così copro diego è un attaccante la seconda parte del nome eh, sause posto di? piramonti piramonti, grande ma come cazzo fa? ma diego è un mostro regalo, cioè ma che stai a scherzare crotone, lazio, genoa crotone, lazio tre anni a lazio genoa benevento latium ma io che cazzo non so cataldi ma che ne so ma benevento, lazio ce l'ho ce l'ho ma che ne so centrocampista nel nome c'ha un Biscardio al plurale albi albi cataldi eh non è vero che se ah madonna che è sta roba ma manco so che squadre so che cazzo non so bu, bellicce baschirotto vai no lo so ce l'ho dai non puoi sbagliare baschirotto grande baschi vabbè a culo ho preso ma quantina ha fatto povereno va ma rega ok ibraimovic stamp benevento sassuolo stamp benfica underlet southampton diuricic benfica benfica magonzo saltempo benfica sandoria benevento sassuolo sandoria questo è difficile centrocampista centrocampista benfica magonzo saltempo benfica underlet sandoria bene contro il centriamo c'è su sandoria benevento sassuolo sandoria yuricic yuricic questa era difficilissima questa era difficilissima ma adesso è matto ever moise ken facile juventus 2021 chi è no 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 ah ce l'ho scusa è facile attaccante italiano ah moise ken moise ken questo ce l'avevo questo è facile dai questa è easy certo bro questo è lukeman lukeman everton lipsia hulam l'estera atalanta ce l'ho giocatore uno dei giocatori più decisivi dell'atalanta avevo pensato pure io a castagna ben attimo non si sa perché bravo dito grande lukeman ma perché mi 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 i sandoria inter Icardi, no, sì, Icardi Grande, peccato subito Icardi, bravo E vuol dire Bayer Monaco Parma? Ma che è un acquisto mio dalla carriera eh, Bayer Monaco Parma Bayer Monaco Parma, Anderlecht, Bologna Sì, bravi Bayer di Monaco, Parma, Anderlecht, Bologna È un acquisto mio dalla carriera Bayer Monaco Parma Ma comunque stiamo d'accordo Allora, questo c'è i capelli Io quando avevo l'età tua, anche più piccolo di te Andavo a casa di mio nonno, che si chiama nonno Franco Che era il tuo bisnonno Che mi faceva vedere il Corriere dei Piccoli Nel Corriere dei Piccoli, andati a cercare l'immagine C'era un personaggio che si chiamava Sor Pampurio Che c'era i capelli con due ciuffi qua E questo c'è i capelli uguali Zikze Zikze, no? Zikze 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 Salisburgo, Liefering Ma che è Liefering? Salisburgo, Liefering Salisburgo Lipsia Bayer Monaco Lipsia Bayer Monaco Quattro anni Arlipsia Nel 2021 ha firmato col Bayer Monaco Chi è che ha fatto quattro anni Arlipsia Per poi firmare col Bayer Monaco Ce l'ho, eh? Aspetta che ce l'ho, dammi un attimo Ce l'ho, bro Fidate Fidate che ce l'ho Arriva Non ce l'ho Porco Dio Pamecano Lipsia Bayer di Monaco Ce l'ho, è austriaco? No, non è Sabiz Non è Sabiz Ah, hai detto Sabiz Sabiz era passato quest'anno Sì, è vero È il Pippone No? Qual è il Pippone? Quello che ha deciso la semifinale? Uvamecano Uvamecano Ma poverino Uvamecano che guarda il video Me lo immagino tutto sorridente Adesso, adesso ervate, me indovina a me Il Pippone Il Pippone Un po' esagerato No, Uvamecano è forte Uvamecano è forte Hai ragione Però io ho visto fare delle cose in serie finale C'è un po' doveva prendere la palla con le mani E segnarsi direttamente in porta E poi c'era prima Però va bene così Paris Saint Germain E Lipsia È francese Vabbè è un cuncù capi dai È un cuncù Un cuncù Grande un cuncù Era chiamata grandissima Bravo Grazie, grazie Apprezzo Oh, se ne hanno forti su questi Sì Pensavo peggio Eh, Diegone ne sa Diegone gioca a FIFA Bro Diegone Diegone gioca a FIFA E sa quelli giusti Ma che è sta roba No, regà Cioè, manco me ce provo Manco ce provo Alpro, Percelli, Frosinone, Genoa e Cremonese Che ne so io Finisce inone? Sono il sole No, Milione Io lo vengi Real Madrid Rayo Vallecano Eeeh Oh, ma Darlitz Malaga, Real Sociedad Delizio Dai, questo ce l'abbiamo Facile Aspetta un attimo Ma chi è che è Ma l'anno scorso, poi No, questa Primimamente Ma non è Tristan Ma bro, è Llorente Bro Ma son bot Ma son bot Eeeh Llorente Llorente Oh, bro, ti giuro Bro, non c'ho Cioè, non c'ho minimamente pensato Regà Vabbè, ma mi sono svegliato Tre quarti d'ora fa, ragazzi Cioè Eeeh Mesta Mestaia che è la squadra B del Valencia Eibar Celta di Vigo, Valencia Manchester City, Real Sociedad David David Silvo Silvo Olimpique Marsil Ulam 2021 Al Napoli San Buanghissa Vabbè, ragazzi Una pippa Sì, a Fulham, Mila Real Mila Real Fulham, Napoli Ragazzi, una sega Quante ne sa Erbate O No San Buanghissa Oh Leister Manchester City Mares Mortacci Sua Che Mo ricordo Che doveva venire a Roma Quell'anno Gli piazze in corpo Sto coglione Ah, come no Scusa Sì, all'Ester Ha vinto il campionato con l'Ester Eh Questo gol Mi ha reso tanto triste Mi ha dato grande Amarezza Quando non c'è lo zucchero C'è grande C'è grande Amarezza C'è grande A Perché non mi viene Marezza Eh Come viene Marezza Marezza Grande amarezza 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 Mi hai buttato in cacciara Fabio Poraccio Non ci ha capito Niente Isola Isola Atalanta Turino Cersi Roma Roma Venuta a Roma nel 2019 dal Chelsea Chelsea-Roma Ma chi è che è venuta alla Roma dal Chelsea Nel 2019 per un anno solo Che poi sei andata a Genoa Zappago Liri è facile dai No sì infatti Avellino Atalanta Torino Chelsea Roma Genoa Atalanta Ha a che fare con l'agricoltura Agricoltura Zappagosta 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 Eh Zappagosta Smalling Zappagosta E tu la Manchester United è del Roma Chris Smalling Chris Smalling Grande Basilea Borussia Mönchengladbach Basilea Borussia Mönchengladbach Arsenal Stà all'Arsenal dal 2016 È una cifra Se ci pensi no? È proprio una cifra Quindi comunque dovrà essere Un uomo di mezza Non ti dico di mezza stagione calcistica Perché dal 2010 Borussia Mönchengladbach Sarà Shaka E Arsenal Ancora gioca? Questo è tosto Nazionalità Spizio Ciò Si lo vuole dare Roma pure questo Ebbe Sono due fratelli Uno gioca in una nazionale E uno gioca in un'altra Uno gioca in nazionale svizzera Ma non te chiede come fanno a sapelle in chat T'hanno già visto il video Sti paraguli C'è un insetto lì Asciacalo 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 Non lo so C'è lo so proprio ma non lo so Schalke 04 Bayern Neuer Giusto Giusto Giustissimo Grande Ma che è sta roba? Lazzovic Tutta la chat E quando deve fare Tutta la chat Lazzovic Questo Va Facile Borats Kakak No Kakciak Kakak Borats Kakciak Stella Rossa Genoa Verona Lazzovic No Lazzovic Scusa Lazzovic Ho sbagliato Lazzovic Sono difficili Sono difficili Sì Possibili Capo Brucellò Brucellò Quello là Capito Quello Quello che ha a barba Quello a centrocampo Quello che stava a centrocampo No Quello che ha a barba Bru Marine Ma chi è Marine Vitorul Costanza Quindi Romania Standard 10 Ajax Cagliari Empoli Tu hai questi difficili Ma questo è difficilissimo Mi dite come fate a sapere sta roba? Boca Junior Eh Ma che è il tigre bro È la punta dell'Italia Non mi viene il nome Rategui Rategi Beh Una carriera tutta italiana Hai visto? Sì Ho giocato Sì sì ma infatti Arlea Vincenzo Benazer Vignone Arsenal Tour Non ho letto capo No Empoli Milan No Dalla Empoli a Milan È passato uno nel 2019 Centrocampista Croato Benazer 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 Penso che invece Avete detto Cromic Amici Beh siamo andati Discretamente bene Sì era molto difficile Era molto difficile Difficile non impossibile Alcune Alcune sì Adesso ci mettiamo a un pari Comunque secondo me Non tanti ci hanno battuto Perché alcuni erano tosti Io di sicuro no ragazzi Sì ne avrò prese 5 su 22 Una cosa del genere Iscrivetevi al canale Provateci anche voi E ricaricate le reaction Io incando il contenuto Ciao alla prossima ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti